Lei sentiva di avere questo problema delle remoce e quindi ha cercato anche in vita sua di correggerla e io ho letto una cosa straordinaria, che a un certo punto ha comprato un vibratore. Spiritore, lei è molto spiritore. Un vibratore. Ma non l'ho comprato perché piaceva a me, perché sono andata da una locopedista, è stata una cosa allucinante, questa locopedista aveva una macchina che costava 4 milioni, naturalmente io all'epoca non avevo i soldi per comprare questa macchina, perché questa era che viene dal fatto che la puntina della mia lingua è pigra, non vibra. Allora questa macchina aveva una linguetta che doveva muovere questa puntina, non avevo questi soldi e dissi ma come faccio? E lei mi disse compri un vibratore, lo mette sotto la punta della lingua, c'è imbarazzantissimo e così due ore al giorno. Allora io ovviamente entravo nelle farmacie, perché all'epoca si vendevano nelle farmacie. Non c'erano i sex shop. Ma non c'erano e se c'erano io non lo sapevo comunque, quindi si comprava in farmacia. Quindi andavo nella farmacia e dicevo senta per favore mi deve dare un aspirina, ovviamente la prendevo alla larga, un aspirina, un alcol e poi un vibratore.